Musica Ok Claudia, adesso rimettiamo la musica e tu correrai. Quindi abbiamo vari cerchi, abbiamo i cerchi con le prime tre lettere dell'alfabeto, A, B, C, abbiamo altri tre cerchi con i primi tre numeri, 1, 2, 3 e poi usiamo tre figure geometriche, il quadrato, il cerchio e il triangolo. Quindi a seconda di quello che io ti dico, o il numero o la lettera, tu mi indicherai, o ti fermerai, o toccherai quello che io ti sto chiedendo di mostrarmi. Vai Claudia! Corri tranquillamente. Indicami la B. Bravissima, vai di corsa. Cambia pure direzione, eh. Due. Ottimo, vai! Vai, 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 vai. Triangolo! Buono! Ci! Tre! Quadrato! Cerchio! Uno! Brava Claudia! Adesso voglio che mi metti in fila i tre numeri, uno, due, tre. Fai scivolare il cerchio, bravissima! Vai, sposta il numero tre. Brava! Ok, adesso le tre lettere dell'alfabeto. A, B, C. Vai con la C. E adesso mi metti le tre figure geometriche. Quadrato, cerchio, triangolo. Quadrato, cerchio, triangolo. Grande Claudia! Grazie! Chi! Chi exactamente la C. Chi. Aproposar. Chi. 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 Grazie a tutti